Bene ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo un remake di quello che è l'analisi ciclica, analisi tecnica dei mercati cripto. Recuperiamo il video di ieri, di lunedì, che non ho potuto fare ragazzi perché sono ancora in... sono di nuovo, anzi, in viaggio, diciamo, come sto facendo da inizio anno. Ehm, ragazzi, allora la fase di Bitcoin continua ad essere estremamente debole, quindi la fase in generale del mercato cripto è estremamente debole e nulla di anomalo rispetto a quello che ci siamo detti nelle scorse giornate, ma probabilmente stiamo andando verso la chiusura del ciclo mensile di Bitcoin che dovrebbe appunto concludersi a metà del mese di giugno circa, più o meno intorno ai 30 giorni dall'ultimo mino che potrebbe essere o il 18 di maggio o il 12 di maggio. Quindi in sostanza intorno al 15 più o meno, ragazzi, quindi metà mese di giugno dovremmo assistere alla fase di chiusura del ciclo mensile di Bitcoin. Quindi facciamo intanto il briefing di quella che è la situazione ciclica di Bitcoin, Nasdaq e ovviamente diamo un'occhiata ad Ethereum che invece è fortemente debole rispetto, continua ad essere debole rispetto a re delle criptovalute e si porta un po' dietro anche tutto il settore del cripto in generale. Poi andiamo a vedere anche il grafico che ho postato ieri sul mio canale Telegram, ragazzi, perché quando sono in giro ogni tanto metto giù lì qualche analisi e ho postato ieri appunto quest'analisi dove parlavo anche di questa struttura del ciclo annuale, quindi faremo poi un briefing del ciclo annuale che probabilmente sembra proprio essere un ciclo annuale ternario a tre tempi in maniera estremamente un po' strana, fatto un po' così, che dovrebbe concludersi in teoria appunto sempre con i tempi che ci siamo detti nei scorsi video, quindi vicino alla fine dell'estate 2022. Va bene, allora intanto iniziamo da questa fase. Ieri nell'analisi avevo pubblicato appunto dicendo che una rondine non faceva prima vera, che comunque la situazione tecnica proprio su questo grafico indicava che in sostanza il rimbalzo settimanale lasciava il tempo che trovava e poi in linea di massima è proprio questo livello dei 30-32 mila dollari che sta, funge appunto da in questo momento veramente resistenza importante in questa zona qui ragazzi, vedete. Comunque la vediamo tra un po'. Iniziamo a ragionare intanto i termini di analisi ciclica di Bitcoin. Questa struttura del ciclo mensile, l'ultimo ciclo mensile terribile di Bitcoin, quello con la questione Luna, è stato fortemente ribassista ragazzi e dopo due cicli mensili che avevamo avuto entrambi, uno e due al rialzo, questa struttura in pratica di chiusura estremamente pronunciata con il breakout dei minimi di partenza e poi del minimo del ciclo semestrale di Bitcoin o del movimento centrale di un annuale ternario, senza complicarci troppo la vita, comunque la rottura del minimo ha innescato una spirale discendente abbastanza rilevante. Se non che ragazzi, poi il superamento nella giornata del 30 di maggio delle due medie mobili che fungono da spartiacque tra un trend al ripasso e uno al rialzo ha segnato l'inversione di breve periodo di Bitcoin e quindi il ritorno ad un trend di natura laterale, quindi non più ribassista ma laterale. Quindi nel breve periodo si è fermata l'ondata ribassista che aveva contraddistinto il mercato da metà di aprile quindi abbiamo fatto un mese buono totalmente al ribasso e anche in maniera estremamente pronunciata. Cosa è successo però? Da questo break sono cambiate un po' le carte in tavola e il mercato in effetti poteva anche decidere di invertire completamente il trend facendo una B però in realtà non l'ha fatto perché nei giorni successivi il livello di resistenza a 32.000 dollari è stato importante Bitcoin l'ha sentito entrambe le volte, non è riuscito in nessun modo a superarlo e quindi abbiamo avuto dei prezzi che sono stati rigettati in questa occasione e anche nella giornata di ieri quindi tutto secondo analisi tecnica ragazzi è estremamente precisa quindi molto da manuale ecco uno l'ho aggiunto ieri e poi questo è stato il rigetto del livello di resistenza a nonno che non è riuscito a superare Bitcoin. Se guardate anche da un punto di vista tecnico il grafico in sostanza è fermo quindi quello che noi vediamo in questo momento è un'oscillazione piena di rumore quindi un riequilibrio dopo una fase estremamente delicata, molto delicata del mercato cioè la fase di ribasso quindi in questo momento il mercato è come se fosse atterrato e stia diciamo muovendosi su e giù, su e giù, su e giù per fermare questo evento di caduta però ci sono dei livelli estremamente importanti ragazzi intanto questa zona qui che corrisponde con il minimo del ciclo mensile che è iniziato non sappiamo di preciso se è qui, qui o addirittura qui quindi non abbiamo un'idea precisa di dove questo ciclo mensile sia iniziato ma sicuramente è iniziato in questa zona quindi io come vi dicevo nel precedente video lo faccio cadere a metà del mese così insomma siamo più o meno in una linea di mezzo in una linea di confine, è inutile che si fanno tante riflessioni ma l'anesi ciclica in queste situazioni non è d'aiuto in termini dell'individuazione del punto preciso ma è d'aiuto in termini dell'individuazione del timing, del momentum del mercato in questa fase dove siamo in questo momento il mercato sta andando verso la fase naturale di chiusura del ciclo mensile che è iniziato in questa zona, non sappiamo dove è iniziato ma sappiamo che qui siamo nella fase post insomma alla fase up quindi il rischio che questo massimo di bitcoin sia stato il massimo del ciclo mensile attuale è molto alto, anzi è insomma molto rilevante il fatto che ieri sia stato respinto perché poteva in effetti aggiornare questo massimo fatto intorno ai 32,3 lo poteva aggiornare proprio nella giornata di ieri o oggi stesso invece è stato respinto stanotte in pratica e quindi quello che vediamo qui è una candela che si sta andando a creare proprio a causa del fatto che la resistenza ha tenuto nuovamente ovviamente non essendo stato un massimo nella seconda parte del ciclo non abbiamo neanche la possibilità di definire questo ciclo come probabile ciclo rialzista perché in realtà abbiamo una struttura a metà quindi questo è più probabile sia un mensile di natura ternaria fatto in questo modo ragazzi è molto 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 rumoroso ora, secondo me l'obiettivo di bitcoin in questa fase e poi si tirerà dietro tutte le cripto al 100% perché in questo momento bitcoin abbiamo visto essere molto più forte rispetto anche alle criptovalute quindi aver ripreso quello che è la sua naturale atteggiamento di criptovaluta re insomma ecco del settore di appunto strumento re del settore però secondo me l'obiettivo principale in questo momento deve essere quello di tenere i minimi dello scorso mensile ora i minimi sono molto bassi in queste shadow ragazzi però io mi identificherei in una zona intorno ai 27.000 dollari quindi questa zona 27.4 ragazzi questo livello deve tenere perché è molto rilevante da molti punti di vista ragazzi in quanto se il mercato è troppo debole a giugno in questo momento e abbiamo ancora davanti a noi qualche mese ora lo vediamo sull'altro grafico quello che ho postato ieri su telegram questo qui che ci porta comunque a una fine estate 2022 non inizio estate allora ragazzi la situazione peggiora peggiora troppo e andiamo a toccare dei livelli che secondo me dovremmo toccare solo ed esclusivamente a chiusura del ciclo annuale speriamo di non toccarli mai intanto però qualora dovesse farlo solo nella fase finale del ciclo annuale perché prima rischierebbe veramente di compromettere in maniera importante la struttura di lungo periodo fin tanto che si parla di bitcoin ragazzi anche un arrivo intorno ai 22.000 o se dovesse scendere anche sotto 18-16 potrebbe essere anche sostenibile magari nel lungo periodo ma un mercato delle criptovalute e soprattutto le cripto più piccole quelli che sono i progetti meno importanti ecco chiamiamoli così più speculativi ecco questo è il nome giusto più speculativi più innovativi non reggeranno ad un crash del 50% dagli attuali prezzi di bitcoin e probabilmente vedremo fallire una serie di progetti in maniera consistente quindi magari centinaia di progetti sicuramente saranno accantonati cosa che solitamente fanno appunto i bear market ragazzi quindi niente di anomalo però preferibilmente per la salute dell'intero settore cripto è meglio che questa fase di consolidamento si svolga in barra di congestione quindi secondo me questa zona è molto rilevante bitcoin deve tenere questa zona qui ragazzi perché uno ribasso soprattutto di questo ciclo mensile in chiusura magari in questa zona qui lo posso accettare però se incomincia a scendere troppo e magari nei prossimi giorni non verso ancora mancano una decina di giorni per la metà del mese ragazzi insomma se lo fa l'ultimo giorno insomma il 20 di giugno allora va bene ci può stare insomma ha fatto il touch della chiusura però se lo fa anticipatamente domani dopo domani il timing diventa troppo complicato e un tentativo di breccare questi minimi sarebbe poi nelle corde del mercato insomma non la vedo bene se fanno cose del genere al momento la soluzione migliore è che si mantenga in questo limbo barra di congestione e perda tempo ragazzi per ripristinare le forze far insomma scendere alcuni livelli anche di magari tensione e poi magari iniziare un nuovo ciclo mensile perché ragazzi perché il nuovo ciclo mensile se mantiene questo livello e non va giù ha la possibilità di breccare in maniera molto semplice questo massimo perché vicino questo massimo non è lontano quindi nel momento in cui il mercato dovesse appunto chiudere un ciclo mensile intorno all'area 27 28 questa zona qui 27 28 insomma ok quest'area qui o anche più su più su sarebbe ancora meglio quindi se arriva massimo qui poi magari un'eventuale ripresa il livello dei 32 potrebbe essere breccato abbastanza facilmente da bitcoin ragazzi e innescherebbe il concetto di inversione di trend di breve perché avremmo poi due minimi che sono stile triplo minimo e un break di una barra di congestione al rialzo questo break innescherebbe un pump al rialzo ecco perché è molto rilevante che questa fase continui così proprio per far respirare il mercato perché nel momento in cui poi dovessimo andare nel mensile successivo a breccare questo livello potremmo avere spazio tranquillo di risalita anche in questa zona e mi sta bene ragazzi perché poi magari andiamo verso la fase di chiusura del ciclo annuale per cui più alto siamo meglio ecco questo è il discorso generale andiamo a vedere Tyrion invece che ha una struttura delicatissima segno di tutto quello che insomma vi sto dicendo da un po' delle complicazioni di Ethereum e del fatto che moltissimi istituzionali probabilmente in questa fase hanno preferito fare sell di Ethereum per non affrontare la questione del merge e i rischi connessi al merge e sono usciti probabilmente dal genere cripto in attesa che si schiariscano le acque passando su bitcoin perché in questa fase probabilmente è meno rischioso detenere bitcoin di Ethereum e quindi perché detenere Ethereum ecco questo è il concetto probabilmente hanno fatto questa scelta ed è il motivo per il quale Ethereum dopo un annetto quasi due insomma circa di forza relativa importante rispetto a bitcoin ha iniziato un po' a scricchiolare non è proprio crollato ragazzi ecco perché vi faccio anche vedere in pratica la struttura di Ethereum contro la struttura di Ethereum contro BTC mettendo diciamo il grafico relativo quindi non è proprio crollato che diciamo insomma ok è andato giù però ha perso molto sprint questo significa appunto che c'è dietro una probabile manovra ecco chiamiamola così è di tentativo di uscire da una situazione di forte rischio che magari è quella che insomma collega Ethereum in questa fase proprio a causa del merge e infatti ragazzi si è avvicinato oltre ad aver breccato questo livello di minimo si sta avvicinando molto leggermente diciamo a quella che è il livello no limits quindi off limits che è lo 0.055 ma in particolar modo è stato proprio il break che dovrebbe essere insomma ormai avvenuto di questa zona qui che sancisce in linea di massima il fatto che Ethereum BTC potrebbe aver toccato i massimi dell'intero ciclo annuale di Ethereum BTC che è un ciclo molto molto lungo e che finirebbe a luglio 2023 quindi se fosse così in pratica gli equilibri di forza relativa sono a favore di Bitcoin per un annetto ecco un po' queste cose dobbiamo tenerne conto ragazzi anche perché moltissimi hanno anche Ethereum in old position quindi è giusto calcolare quelli che sono i livelli di forza relativa fra la regina delle cripto e il re delle cripto e in questo momento sono leggermente a favore di Bitcoin anche se non in maniera drastica almeno fin tanto che regge questo 0.05 al di sotto di 0.05 invertono in maniera definitiva però fin tanto che regge ancora Ethereum resta in questo suo limbo quindi potrebbe ancora resistere ecco questo è il discorso allora da un punto di vista tecnico come vedete è vicinissimo ai minimi di 1.7 che rappresentano minimi rilevanti mentre Bitcoin è ai minimi è molto lontano dai minimi che sono i 25.000 questa zona qui ragazzi i 25.000 e 7 nel caso di Ethereum invece abbiamo visto che è molto vicino ai minimi quindi ancora una volta tutto dipenderà anche da questa situazione ora la il mensile di Ethereum è un po' complesso da definire perché sembrerebbe iniziato sul minimo del 27 maggio quindi Ethereum è anomala in questo momento ragazzi perché non si riesce a comprendere se ha chiuso qui il ciclo mensile potrebbe tranquillamente aver chiuso qui il ciclo mensile essere già un mensile al ribasso e aver fatto la prima metà e la seconda metà dovrebbe scendere giù se il ciclo mensile ha chiuso qui ragazzi andiamo in chiusura entro una decina di giorni e una settimana al di sotto dei precedenti minimi quindi probabilmente destinato a toccare i 1.500 se questa struttura è come vi ho indicato ragazzi perché se il mensile è già virato al ribasso non c'è scampo quindi si scende al di sotto dei minimi l'unico modo per vedere un Ethereum che leggermente riprende quota è che il mensile si sia chiuso il 27 di maggio cioè non c'è altro modo quindi o il 5 mensile di Ethereum è stato chiuso il 27 di maggio rispetto a Bitcoin quindi una settimana dopo circa 10 giorni dopo ci può stare perché non è la prima volta che Ethereum fa questa cosa però non abbiamo nessuna conferma al momento ragazzi perché questo rialzo non è andato sopra i precedenti quindi non indica niente questo rialzo qui perciò al momento non abbiamo nessun dato al momento se dovessimo far coincidere la chiusura del ciclo mensile di Ethereum con quella di Bitcoin il ciclo sarebbe al ribasso e questo configurerebbe un nuovo minimo che dovrebbe arrivare entro pochi giorni questo è il risultato quindi al momento l'esposizione su ETH è estremamente delicata già un superamento per esempio ragazzi di questo livello quello toccato proprio poco tempo fa non no il precedente potrebbe essere indicativo per esempio questa zona 1950 perché se già ritorna sopra questa zona magari potrebbe indicare che il mensile è iniziato qui poi soltanto superamento dei 2100 2050 indica in maniera certa che il mensile è iniziato il 27 maggio ma al momento non abbiamo nessuna possibilità quindi non c'è operatività se non short su Ethereum in questo momento oppure andare insomma in tentativo di forza relativa diciamo con le cripto più più forti come Bitcoin allora struttura del Nasdaq struttura del Nasdaq pericolosissima perché ha fatto il solito rimbalzo del gatto morto vedete distantissimo da un recupero anche Nasdaq e purtroppo anche lui ha questa scadenza ciclica verso il 6 di settembre molto 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 complessa perché o siamo appunto ragazzi in una fase che sta chiudendo un ciclo qui anticipando di qualche giorno oppure non c'è scampo neanche per questo perché anche Nasdaq ha breccato i minimi dei cicli annuali semestrali tutti quanti perciò ragazzi il trend continuerà fino alla chiusura di questi cicli e il trend è ribassista quindi anche Nasdaq quando e se dovesse iniziare a spingere in maniera eccessiva si porterebbe dietro al 100% tutte le criptovalute e Bitcoin quindi da Bitcoin poi abbalanga su tutte le cripto quindi anche qui l'unica soluzione in questo momento molto delicato che questo minimo regga il più possibile è che il mercato continui a fare un'oscillazione in barra di congestione magari con dei pump e dei dump fino a perdere un paio di mesetti e a quel punto portarci vicino alla scadenza naturale ciclica da quel punto e poi potremmo iniziare a sfoderare i cannoni le armi ragazzi e magari pensare di rientrare sul mercato in altri modi quindi facendo i paddy dip e altri tipi di logiche vediamo la Total Market Capital DeFi Total Market Capital DeFi che configura questi pattern classici di respiro da un trend fortemente a ribasso sono solitamente dei pattern di continuazione del trend ve lo dico ora chi ha studiato analisi tecnica alla perfezione conosce questi pattern questi non sono pattern che indicano chiusura di un movimento ma sono dei pattern di respiro con le shadow molto pronunciate che indicano continuazione del trend cioè in teoria questo trend riprenderà a scendere quando insomma tutto filerà in questo modo solo un rientro sopra i 64 billion questa zona qui magari ci farebbe respirare ma neanche più di tanto ragazzi perché la Total Market Capital DeFi è messa malissimo a livello tecnico quindi c'è bisogno proprio del passare del tempo non c'è soluzione quindi dobbiamo vedere il tempo passare queste due medie livellarsi il mercato costruire una struttura come questa una barra di congestione vedete una struttura di riflessione però considerate che in ogni caso è stato breccato questo minimo quindi da un punto di vista di medio lungo periodo lungo intendo un anno è stato invertito il trend ed è al ribasso della Total Market Capital DeFi d'altronde era salita tantissima ragazzi quindi anche un riaggiustamento per dirti di questo trend solo considerandolo dai minimi del dicembre 2018 per esempio se andiamo a costruire quelle che sono per esempio i fibonacci vi dice che comunque ci stava alla grande e che il mercato vedete è ritornato diciamo su un livello di correzione accettabile è anche vero che secondo me se le cose dovessero girare veramente male potrebbe tranquillamente arrivare intorno ai 20 billion ragazzi e la cosa lo so non è bella però sicuramente configurerebbe una serie di fallimenti alcuni protocolli di DeFi magari quelli più piccoli quelli un po' più azzardati quelli meno diciamo stabili con meno capitali dietro con meno liquidità con meno progetti validi eccetera quindi fate attenzione tanta tanta attenzione non abbiamo nessuna notizia in questo momento però un break di bitcoin dei livelli che vi ho detto un break di Ethereum dei livelli che vi ho detto si tira dietro tutto quanto il mercato quindi mi raccomando riducete assolutamente il rischio in questa fase va bene ragazzi poi chi di voi magari sporgiudicato starà facendo i buy the dip analizziamo l'ultimo grafico che vi avevamo promesso con la struttura ciclica di bitcoin struttura ciclica di questo di questo mercato ragazzi che si configurerebbe in chiusura teoricamente intorno alla fine del mese di settembre quindi all'estate fine estate sembrerebbe un ciclo un po' costruito in questo modo ragazzi cioè un po' fatto con una struttura di natura ternaria quindi un primo ciclo che in effetti a me non era mai ispirato più di tanto come semestrale perché era un semestrale leggermente corto io l'ho sempre visto un semestrale di bitcoin più intorno ai 200 e qualcosa invece qui siamo a 182 ragazzi anche se lo allunghiamo per esempio portandolo al minimo attuale immaginandoci in maniera insomma immaginaria appunto virtuale che si sia allungato il ciclo qui in questione non è siamo oltre perché qui siamo a 300 quindi il ciclo semestrale è stato chiuso in questa zona è birato al ribasso ora o chiudiamo un annuale anticipato a 300 giorni come vi spiegavo perché il mercato magari tenterà di fare un biennale ternario ma la cosa in quel caso lì è peggiorativa quindi io spero assolutamente no una cosa del genere ragazzi perché sarebbe peggiorativa perché porterebbe una fase di congestione bar laterale ribassista anche per l'anno prossimo quindi questa non sarebbe assolutamente una cosa da ben sperare quindi no in questo momento la soluzione migliore è che continui questa fase il più laterale possibile fino alla chiusura del ciclo annuale naturale che è verso fine estate e da lì in poi poi attendere una fase di congestione per la chiusura di questo bear market e prendere le nostre dovute azioni quindi entrare magari sui mercati cercare progetti validi perché il tutto queste analisi ragazzi ci portano alla conclusione operativa più importante di tutti cioè attendere la pazienza che è la virtù più rilevante dei trader ragazzi anche più rilevante diciamo in generale anche nel mondo attuale però nel trading ancora di più negli investimenti ancora di più ragazzi quindi pazientate pazientate che il mercato dia segnali e dia i segnali giusti magari non comprate il minimo ma non è rilevante non rischiate che è la cosa principale e vi trovate fuori dai danni o dal macello se dovesse succedere chissà cosa quindi questo è fondamentale il ciclo attuale sembra un annuale di natura ternaria proprio una classica M con una ultima gambetta che mancherebbe ragazzi che è proprio la finale di questo ciclo ternario non è detto che arrivi a ottobre perché essendo un ciclo ribassista potrebbe anche anticipare leggermente e fare magari 400 giorni ad agosto però comunque ragazzi queste cose le vedremo poi con calma perché è impossibile comprendere cosa fanno i mercati qui a un mese cioè non è quello il senso di queste analisi il senso di queste analisi è comprendere se ci sono i segnali di veri cambiamenti che attualmente non ci sono come vedete il mercato è solo fermo in questa fase non ha fatto neanche un pump non si è avvicinato nemmeno alle due medie queste intorno ai 38 insomma non c'è niente al momento tutto fila secondo questi dati tra le altre cose questo è l'ultimo livello di supporto rilevante di bitcoin perché poi come vedete qui supporti rilevanti non ce ne sono quello più importante è intorno ai 20.000 che è il precedente massimo quello della bull market del 2007 2017 2018 quindi questa fase potremmo avere degli sciacquoni quindi è molto delicato mi raccomando ragazzi proteggetevi il più possibile usate dei train system strategie formatevi in questa fase che è la cosa più importante perché poi i risultati verranno quando il mercato ve li darà però dovete essere preparati essere in grado di prenderli fra qualche mese quando il mercato cambierà perché ragazzi dopo la tempesta viene sempre il sereno questo è sempre successo magari ci vorrà un po' di più però è sempre successo nella storia dell'umanità e continuerà a essere sempre così allora questa è secondo me la struttura che sta seguendo bitcoin quindi attendiamo ancora fase laterale vediamo cosa fa questo ciclo mensile dopodiché tireremo le nostre conclusioni quindi resistere questa la parola d'ordine attualmente va bene ragazzi io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao